La misteriosa scomparsa di Giulia Cecchettini e Filippo Turetta continua ad agitare l'opinione pubblica, tenendo banco anche sui principali canali televisivi. Da sabato sera 11 novembre, i due ex fidanzati non danno più notizie di sé, alimentando l'allarme e le ricerche da parte delle autorità. Le indagini si stanno estendendo oltre i confini nazionali, con la Fiat Grande Punto Nera, sulla quale viaggiavano i giovani, tracciata fino all'Alto Adige in Austria. L'ultima volta che la vettura è stata individuata è mercoledì mattina alle ore 9.30 a San Candido. Se la vettura è effettivamente giunta in Austria, al momento rimane solo un'ipotesi, ma le autorità stanno collaborando anche con le forze di polizia estere per ottenere informazioni cruciali. Nel frattempo, nelle vicinanze di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, lungo l'argine del fiume Mosson, i carabinieri hanno fatto una scoperta inquietante. Sono stati trovati dei brandelli di stoffa appartenenti a abiti femminili. I pezzi di vestiti saranno sottoposti ad analisi approfondite per determinare se siano collegati a Giulia. Al momento, si tratta solo di indizi e bisognerà attendere le analisi per avere una conferma definitiva. La tensione cresce, e la speranza di trovare i due giovani scomparsi sani e salvi si mischia con l'ansia per le nuove prove emerse. Le autorità continuano a lavorare instancabilmente per gettare luce su questa vicenda avvolta nel mistero. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video, e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere, e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.